buongiorno a tutti ragazzi eccoci di nuovo qua con football manager 2020 allora ho fatto uscire il primo video e tutti mi hanno scritto io sono contento mi hanno detto bello 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 perché non ci insegna a fare una tattica e come si utilizzano i giocatori all'interno di questa tattica perché questa è la cosa fondamentale allora primo primo anno io vi ho detto non si deve vincere il campionato e difatti io l'ho subito vinto con la pistoiese abbiamo servati secondi dietro il monza poi abbiamo vinto i playoff e quindi ci troviamo in serie b anche se noi onestamente non l'avremmo voluto perché perché adesso nascono poi dei problemi perché noi probabilmente la squadra non l'abbiamo come non l'abbiamo in grado probabilmente di affrontare un campionato di serie b sarà una stagione di patimenti e sofferenze e però cosa facevamo non perdevamo apposta non mi sembrava giusto allora non utilizzerò la pistoiese per fare queste tattiche utilizzo l'altra squadra io uso sempre due uso sempre no a volte utilizzo due squadre non per passarmi i giocatori perché questo non lo faccio mai ma lo faccio perché in una squadra punto a fare bene come in questo caso la pistoiese l'altra squadra testo varie tattiche varie giocatori per vedere se i giocatori che ho scelto possano andar bene insomma una è la squadra principale l'altra è il muletto che mi serve per testare cose nuove l'altra squadra che è arrivata terza in campionato quindi la pistoiese seconda e ha vinto i playoff l'altra squadra che è il gozzano è arrivata terza e poi ha perso le semifinali di playoff ok e quindi le tattiche hanno un valore incredibilmente alto non si vince di sola tattica questo sì ma allo stesso tempo la tattica può sopperire a tutta una serie di limitazioni che magari alcune squadre possono avere il gozzano il lega pro e nel girone a della realtà è una squadra che balla tra la decima la dodicesima la tredicesima posizione farla arrivare terza dietro al mozza che è una squadra effettivamente nettamente più forte e anche il football manager è nettamente più forte vuol dire che la tattica e determinate determinati meccanismi del gioco effettivamente funziona allora andiamo su tattiche io adesso ho utilizzato questa tattica che ho scaricato da internet però poi l'ho modificata invece adesso facciamo una tattica completamente nuova siamo al primo di luglio quindi quando si apre la stagione siamo al primo di luglio e dobbiamo fare una tattica ex novo cioè completamente da zero ok allora proviamo a fare una tattica adesso la buttiamo lì proviamo a fare una tattica che mi è sempre interessato provare ma che non ho ancora provato che è il 4 2 3 1 ok quindi quattro difensori li mettiamo due centrocampisti che ci sono già 4 2 3 1 quindi mettiamo 3 3 quartisti e una punta ok più o meno dovrebbe essere così ok disegnata sulla carta dovrebbe essere una cosa di questo tipo ora però bisogna fare due cose che sono fondamentali ora io adesso proprio per renderla più difficile non posso neanche provare i giocatori perché i giocatori sono in vacanza quindi se io faccio utilizza formazione consigliata non mi dà giocatori perché i giocatori non ci sono e quindi non possiamo neanche testarli perché la tattica dovrebbe esulare in buona sostanza dalle caratteristiche dei giocatori o meglio nella realtà sarebbe l'esatto contrario cioè tu dovresti fare una tattica con i giocatori che hai a disposizione però attenzione in questo gioco non funziona sempre così in questo senso perché i giocatori tu ne hai 4 5 6 7 forti all'interno della tua della tua rosa quindi dovresti cercare di collegare i giocatori più forti che tu hai con la tattica che vuoi fare ma non è sempre semplice perché perché da un anno l'altro i giocatori vanno via perché da un anno all'altro i giocatori possono diventare magari meno bravi per la categoria che andranno a fare per esempio la pistoiese dalla serie c alla serie b cambiano quindi quelli che erano magari forti in serie c diventano mediocre in serie b allora io devo strutturare una tattica come mi piace farla poi mettere in campo i giocatori che ho a disposizione e andare ad acquistare tutte le posizioni che saranno rimaste libere o comunque che non abbiano giocatori in grado di interpretare al meglio quel ruolo attenzione se voi partite dalla serie c che tra l'altro una cosa che io vi consiglio perché imparate anche a giocare e poi secondo me è anche più bello perché diventa forse un po più gioco di ruolo che partire subito con la juventus a questo punto sappiate che non è che bisogna sempre andare a ricercare i giocatori con quattro stelle perché i giocatori con quattro stelle costano cari giocatori con quattro stelle anche tante volte non vengono quindi ci sono giocatori a volte con due stelle e mezza tre stelle che ti fanno la differenza in lega pro l'importante è che interpretano interpretino il ruolo nel modo più corretto possibile bene andiamo avanti con la nostra tattica allora due cose da vedere quindi come si muove la squadra nel suo insieme c'è tutte 11 quindi in possesso e transizione non in possesso e poi andare a determinare giocatore per giocatore se vogliamo dei movimenti particolari allora io direi mentalità potremmo utilizzarla anche offensiva ok benissimo allora quando sono in possesso come la gioco cercate le sovrapposizioni ma potremmo giocare giochiamo la palla sulle fasce visto che siamo in un 4 2 3 1 largo abbiamo due giocatori per ogni fascia che sono il basso e l'alto quindi abbiamo una corrispondenza sia a destra che a sinistra giocare sulle fasce potrebbe essere interessante nel senso che noi abbiamo più giocatori sulle fasce immagino di giocare contro un 3 5 2 in cui loro hanno un giocatore per fascia che è il quinto come si chiama in questo caso noi abbiamo più forza sulle fasce che effettivamente sul centro quindi direi di giocare sulle fasce e di portare il pallone in area perché abbiamo il trequartista e la punta centrale ok bene passaggi più diretti perché più diretti passaggi più diretti perché i passaggi più diretti ci fanno sfruttare la nostra forza là davanti abbiamo quattro giocatori di attacco vuol dire ribaltare immediatamente l'azione ritmo di gioco beh qui io direi ritmo deve essere alto anche perché poi vedrete che imposteremo un pressing a tutto campo e quindi il ritmo sarà più alto per tempo questo non cerca calci piazzati queste cose qua le lasciamo per in difesa invece dovremmo fare più attenzione cioè siamo ancora in transizione cioè quando noi recuperiamo palla allora contropiede o tenere la posizione ma io allora direi di smistare sulle fasce dagli quando recuperiamo palla cercheremo poi di prendere due esterni alti molto forti ok qui calci alla corta faceva parte dell'altra cosa io direi di lanci alla lunga per il discorso che facevamo prima nel senso di ribaltare immediatamente l'azione visto che avremmo quattro giocatori praticamente che si occuperanno solo di attaccare e al limite di pressare fino alla tre quarti avversaria e dobbiamo cercare di ribaltare velocemente l'azione questo è importante non in possesso allora che cosa facciamo beh non facciamo il fuorigioco perché troppo rischioso però andiamo a prenderli alti dobbiamo cercare di andarli a prendere alti magari così alti direi di no facciamo un pochettino più di ok ecco io farei una cosa di questo tipo avere la linea un pelo dietro ma poi vi spiego anche il perché impedire i passaggi corti del portiere questo sì perché tante squadre giocano con i passaggi corti e recuperare palla molto alta vuol dire arrivare subito in porta non facciamo tecne azzardati e non facciamo contrasti aggressivi perché perché fare contrasti aggressivi ti dà un grosso vantaggio in termini di gioco il problema è che finisce tutte le partite con 6-7 ammoniti e magari qualche volta anche qualche spulso quindi direi di non rischiare ok quindi la tattica di squadra la tattica complessiva la tattica generale cioè che coinvolge gli 11 giocatori l'abbiamo messa su adesso dobbiamo andare a vedere come vogliamo fare interpretare questa tattica i nostri giocatori con i movimenti individuali allora partiamo dal terzino sinistro che cosa vogliamo fargli fare il terzino sinistro beh è un fluidificante potremmo fargli fare il fluidificante ok quindi facciamo modifica e vediamo contrasti più duri ma io lo lascerei così marcatura uomo questo no andare avanti appena è possibile e stai largo questo sì allargare il gioco sì stile dei passaggi io direi stile di passaggi diretti perché fa parte della nostra filosofia di gioco l'abbiamo visto prima cercare di ribaltare quanto più velocemente possibile il fronte del gioco crossa da lontano crossa dalla linea di fondo io questo direi crossa dalla linea di fondo perché per il motivo che dicevamo prima due uomini per fasce è possibile che tante volte uno sovrapponga all'altro e quindi si arrivi sulla sulla linea di fondo crossa più o meno spesso lasciamo perdere crossare io direi verso il centrale perché perché abbiamo una punta che gli faremo fare il centro avanti che probabilmente sarà rimarrà centrale quindi direi di farlo crossare verso il centro del dell'area di rigore stessa cosa io direi per il terzino di destra quindi stessa cosa vai avanti appena possibile tenere la posizione nel senso che non va dove vuole andare libertà di movimento cosa vuol dire vuol dire che lui se gli prende può partire e destro va a giocarsi alla sinistra questo vedremo che poi lo utilizzeremo magari per il trequartista in cui gli diremo vai un po dove vuoi allargare il gioco questo sicuramente sì e crossa verso il centro ok attenzione adesso parliamo di difesa quindi abbiamo un difensore che imposta e questo va bene dribbla di più io farei attenzione passaggi standard anche perché non me lo fa fare perché è un difensore che imposta quindi blocca anche i tipi di passaggi e quindi direi che va bene così lo stesso anche per l'altro centrale stai più largo dice ma non lo so se stai più largo abbia più senso io non toccherei questo questo qua magari lo facciamo impostare un pelo di più cioè gli diamo l'opportunità anche di dribblare qualche volta per avere più compiti di impostazione attenzione ai due centrocapistiche questo è solo il fulcro del gioco perché allora io questi qua vai avanti appena possibile direi no anche perché fa la mezzala no registra il retrato marcatura stretta no allargare il gioco no passaggi standard e direi che possa andare bene lo stesso vale per l'altro per l'altro centrocampista che cosa gli facciamo fare l'altro faceva il registra retrato questo potremmo fargli fare l'incontrista insomma i due centrocampisti centrali devono dare un contributo alla manovra della squadra ma non possiamo farli salire troppo perché già abbiamo quattro giocatori di attacco se facciamo salire pure i centrocampisti la prima volta che prendiamo palla prendiamo gol quindi questo centrocampista gli diamo gli diamo compiti magari un pelo più difensivi anzi molto più difensivi difatti è un incontrista che sta in difesa ora andiamo su due stai io adesso sto facendo degli esempi e ragazzi poi ognuno la struttura un po come vuole ala questo è un ala allora lo facciamo fare l'ala o gli facciamo fare l'attaccante esterno io gli farei fare l'attaccante esterno l'attaccante esterno perché uno quantomeno uno dei due fa di fare l'attaccante esterno perché perché dà una mano alla punta centrale perché altrimenti rischieremo di avere una punta centrale tre che girano il pallone lì dietro e nessuno che entra dentro quindi uno dei due esterni poi se uno vuole rischiare ancora di più magari tutti e due gli esterni sono attaccanti che vuol dire che entrano in area invece se li facciamo giocare d'ala loro continuano a rimanere larghi che va anche bene però il problema è che poi ci dobbiamo affidare quasi esclusivamente ai gol o della punta centrale o del trequartista quindi avremo quattro attaccanti ma che entrano effettivamente in area soltanto due quindi uno dei due esterni o se volete rischiare entrambi gli esterni attenzione attaccanti esterni forti non se ne trovano tantissimi quindi io direi di utilizzarne solo uno attaccante esterno e l'altro invece farlo rimanere più largo ok libertà di movimento sì perché è un attaccante quindi può anche entrare dentro tira di più perché no cross sempre verso il centro l'altro invece li farei lo farei stare più largo quindi gli farei fare proprio il compito di ala per allargare il gioco con tutto quello che ne consegue l'unica cosa per esempio è di corsare anche lui verso il centro ok importante il trequartista perché il trequartista deve cantare e portare la croce nel senso che deve darci una mano sia in fase di pressing in difesa sia in fase di costruzione ma deve anche cercare di fare qualche gol quindi libertà di movimento assolutamente sì andare avanti appena possibile sì dribblare di più sì correre più rischi direi proprio di sì perché il giocatore dovremmo trovare un giocatore molto forte che insomma è quello che crea effettivamente le occasioni da gol ma è anche quello che ogni tanto va anche a farmi del gol non lo faccio giocare d'attacco perché rischieremo poi di avere troppi giocatori effettivamente di attacco cioè troppi che stanno lassù e invece gli faccio fare il supporto che magari mi dà anche una mano e nella fase di impostazione perché ho soltanto due centrocampisti e quindi potrebbero andare in difficoltà quindi mi entra magari nella linea dei centrocampisti per girare la palla per muovere la palla ma allo stesso tempo gli dà un libertà di movimento che se gli prende vuole andare a far gol prova andare a far gol qui dovremmo trovare un giocatore molto forte però è perché se prendiamo un giocatorino un po delle balle tutto quello che noi abbiamo impostato e poi va un po a farsi benedire la punta e la punta qua deve essere o un fulcro del gioco o più o meglio un centro avanti cioè uno che stia là e faccia gol perché se fulcro del gioco effettivamente mi viene a prendere palla un pelo più indietro e riesca di pestarsi i piedi con il trequartista se invece gli faccio fare il centro avanti e un centro avanti d'attacco dovremmo prendere un giocatore forte di testa perché abbiamo visto che tutti crosseranno verso il centro e quindi dovremmo cercare un giocatore molto forte nel colpo di testa meno pressing direi no ma è un centrocampo d'attacco quindi a meno che non glielo con no ma va bene così libertà di movimento no passaggi misti dribbla di più va bene corre più rischi direi di sì va bene possiamo anche farglielo fare ok è perfetto allora noi abbiamo struttura poi ci sono ancora le punizioni gli angoli via via però diciamo che abbiamo strutturato una nostra squadra con un minimo di criterio quindi abbiamo strutturato la nostra squadra con un concetto di fondo qual è il nostro concetto con questa tattica una squadra portata ad attaccare considerate che il gozzano arrivato terzo in serie c quest'anno farà di nuovo la serie c quindi è una squadra che può fare bene quindi una squadra offensiva una squadra che cerca di ribaltare velocemente il gioco con questi lanci lunghi anche dovremmo prendere giocatori molto veloci sugli esterni e un giocatore molto forte di testa là davanti più un trequartista bravo quindi ribaltare velocemente l'azione e cercare di fare un gol più degli avversari perché verosimilmente con questa formazione che già è offensiva di sua in più ha una mentalità offensiva come vedete qua è probabile che qualche gol si prenderà però cercheremo di fare un gol più degli avversari la ragioniamo e la impostiamo in questo modo quindi dovremmo andare a cercare dei giocatori che siano in grado di darci una mano soprattutto nelle posizioni offensive perché vi dico questo ragazzi poche balle è già così nella realtà ve lo dice un allenatore ma lo è di più nel gioco ragazzi bisogna prendere gente faccia gol anche nella realtà è così una volta si diceva se tu vuoi salvarti parlando delle squadre si dovevano salvare prendete pochi gol sì va bene però se poi come si dice il piemontese cioè se non ne fai nessuno ha voglia difendere cioè difendi 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 quando ti va bene fai 0 a 0 se invece tu hai giocatori che là davanti comunque gol te li fanno e va bene magari la partita la vinci 3 a 2 la vinci 4 a 3 ma i tre punti e cavolo tu puoi perdere due partite vincerne una invece che pareggiarne due perderne una fai un punto in più cioè voglio dire fare i gol ti dà l'opportunità di vincere le partite e siccome vince le partite ti dà tre punti e non più due come trent'anni fa le squadre devono cercare di segnare e anche per salvarsi devono cercare comunque la di far male di poter far gol quindi è importante trovare giocatori forti soprattutto davanti poi se li troviamo anche in mezzo e dietro tanto meglio vi dico io con la pistoiese ho vinto il campione di serie c o meno vinto il playoff con attenzione una punta centrale che mi ha fatto 12 gol non tantissimi ma dodici gol con i due esterni uno me l'ha fatti 13 14 l'altra me l'ha fatti 10 con giocavo con 3 scusate con 4 3 3 quindi 12 con la punta centrale 12 con un esterno 10 con l'altro esterno attenzione il capo cannoniere del campionato è stato francesco vagliani che il capitano della pistoiese che nella realtà che ha fatto 21 gol dal centrocampista non è una punta quindi io avevo un potenziale d'attacco fortissimo dietro avevo giocatori a due stelle e mezza tre stelle massimo e le partite le ho vinte tante con goleade e tutto sommato non ho subito neanche tantissimi gol quindi nella realtà è già così ma meno evidenziato in questo gioco è molto portato a cercare di fare gol quindi se dovete spendere dei soldi o per contratti o per acquistare i giocatori prima di tutto per i giocatori che fanno gol o per i giocatori che possono farti la differenza la davanti poi chiaro che anche dietro e mezzo ci mancherebbe ma soprattutto la davanti ok benissimo allora cosa ci serve noi qui abbiamo concas che è un giocatore 33 anni forte che può fare l'ala destra vedete è praticamente quasi tutto verde quindi questo concas sull'ala destra noi siamo a posto ok perlomeno siamo a posto no perché poi vedremo che bisognerà soprattutto sugli esterni sia bassi che alti prendere due giocatori per ruolo perché se si fa male uno e ora se si fa male un centrocampista centrocampisti che abbiano la capacità di giocare in mezzo ce ne sono di più normalmente di una squadra gli esterni se non ne hai due per ogni fascia se si fa male uno poi ti tocca mettere un centrale sull'esterno che è tutto rosso cioè non ha nessuna competenza in quel ruolo l'ho detto praticamente giochi in 10 però diciamo che il titolare o uno dei titolari l'abbiamo che questo concas a destra vediamo i giocatori d'attacco che abbiamo guagno perché sono andati via tutti c'è questo bucua qua che fa l'ala ma a sinistra ma noi a sinistra abbiamo un attaccante esterno quindi dobbiamo comprare un attaccante a sinistra una punta probabilmente perché abbiamo pozebon ma non è un centravanti è un attaccante che pressa quindi pozebon e poi di testa a 10 non è così forte e vedete che centravanti a metà quindi là davanti bisognerà comprare praticamente tutto ok un attaccante esterno un attaccante esterno un trequartista e una punta tre giocatori vanno già comprati in mezzo al campo che abbiamo abbiamo morosini bel giocatore che è lui è un centrocampista di quantità potremmo metterlo al posto dell'incontrista potremmo metterlo al posto dell'incontrista no direi no io direi di fare un incontrista comunque però questo morosini in qualche modo lo facciamo giocare incontrista va bene ci sta è a metà può fare poi un giocatore forte quattro stelle e mezzo questo qua è un giocatore forte a 28 anni quindi bisogna trovargli un posto perché questo a quattro stelle e mezzo non possiamo metterlo in panchina quindi un posto lo possiamo trovare e può fare l'incontrista il regista arretrato che abbiamo vediamo un po silvestroni è un giocatore scarso di suo quindi troppo scarso una stella e mezzo non serve questo gemelli centrocampista in quantità centrocampista centrale no non può fare il regista arretrato meglio può farlo solo in caso di ultra necessità chi abbiamo silvestroni l'abbiamo già visto e non è che abbiamo questo secondo qua che questo è forte incontrista ecco questo può fare l'incontrista questo potrebbe fare l'incontrista è pieno e questo ha fatto bene lo scorso anno e al limite il nostro amico come si chiama già morosini gli facciamo fare il regista arretrato che è più o meno a metà può farlo può farlo va bene può fare se lo mettiamo a supporto guadagna qualcosa no bene possiamo farlo ripeto morosini non posso escluderlo perché il giocatore più forte che ho guardate a quattro stelle e mezzo cortanto sia riuscito a prenderlo devo farlo giocare può fare il regista arretrato dietro i due difessori esterni sono uno lancini che può fare il terzino fluidificante sì e a metà può fare ragazzi non possiamo averli tutti verdi 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 e qualcuno sarà a metà e ci mancherebbe a sinistra scusate questo è lancini a sinistra a destra ne avevo uno bravo anche se lo trovo questo tuminelli terzino fluidificante no no chi posso far giocare qui a destra dovremmo prenderne uno questo piano di giovanni fluidificante questo potrebbe farlo tutto sommato non è neanche malissimo è uno che potrebbe anche perché no potremmo anche farglielo fare di giovanni al limite facciamo giocare l'altro dietro abbiamo bisogno di difensori che impostano mettiamolo così così facciamo prima ah no ma io jacopo gallio è un esterno invertito però può fare anche il fluidificante esterni sono a posto e allora difensori centrali io nessuno perché sono andati via praticamente tutti tuminelli no questo qua è il terzino destro abbiamo visto prima abbiamo ognuno c'è qui bisogno a tordini che mi faceva il centrale ma non lo faceva bene dobbiamo prendere anche due centrali che imposti quindi in buona sostanza ci manca un esterno sinistro c'è un esterno d'attacco a sinistra un trequartista una punta e due difensori centrali cinque giocatori ok cosa facciamo facciamo così andiamo ad aprire questo nostro tool che abbiamo visto ci da 30 lo si può fare anche senza tool adesso ve lo faccio vedere allora io lo faccio vedere col tour così iniziamo partiamo da un'abilità attuale di 75 a 90 non di più di 90 perché altrimenti possiamo portarlo a 95 via ma non esageriamo perché 30 ci costano troppo i giocatori massimo 30 anni contratto free agent eccolo qua allora che cosa iniziamo a sinistra un attaccante esterno vediamo chi troviamo ok allora io vado subito a vedere per capacità attuali portiamoci subito sull 85 88 90 vediamo chi c'è questo montinaro matteo montinaro montinaro lo scriviamo vediamo chi è e due sarà questo alla invertita non ci serve e questo qua è un portiere non c'è per lui allora potremmo anche cercare di fare una cosa andarlo a cercare direttamente qua attaccante test esterno no vediamo un po dov'è wide no no dov'è qua eccolo qua proviamo a prendere uno così vediamo però si però devo dargli anche il valore valore gli diamo 15 ok vediamo un po questo sicurella 90 130 potrebbe essere buono sì 513 sicurella ok vediamo un questo qua è un gioco dell'altro l'arbitro si può fare il trequartista sinistra veloce dobbiamo avere gente veloce ragazzi si discretamente veloce visioniamolo perché dobbiamo vedere se poi effettivamente può fare quel ruolo lì andiamo a cercarne un altro andiamo a cercare vediamo chi ci ha dato luca falbo luca falbo eccolo qua però questo qua potrebbe farlo ma non lo fa andiamo a vedere matteo pinelli un po basso vediamo questo vediamo sto pinelli qua che un giovane pinelli matteo pinelli ma pinelli non c'è matteo pinelli eccolo qua niente anche lui è un basso non va bene allora magari ho sbagliato qua è completo no perché forse non è questo però vediamo un po perché qua sono vediamo di trovare quello giusto secondo volante sarà allora facciamo così guardate ragazzi facciamo prima allora andiamo a cercare direttamente dal coso un attaccante esterno allora facciamo così tattiche andiamo a prendere un'ala tipo ma qui c'è anche fedato attaccante esterno ce l'abbiamo questo fedato è bravo abbiamo l'attaccante esterno ma che cavolo ce ne frega attaccante esterno a sinistra fedato è fortissimo 4 guardate quasi 5 stelle ce l'abbiamo e ragazzi dobbiamo tracare un trequartista a meno che questo possa fare anche il trequartista centrale non lo può fare no ci manca un trequartista centrale quindi cosa ci manca un rifinitore direi un rifinitore allora andiamo a cercare un rifinitore andiamo a cercare un rifinitore non l'abbiamo dobbiamo andarlo a cercare per forza qua dobbiamo andarlo a cercare per forza qua allora mostra desktop rifacciamo la stessa cosa facciamo load eccolo qua allora facciamo 80-100 qua poi dobbiamo trovarne uno forte free agent e massimo 30 anni proviamo vediamo cosa viene fuori allora andiamo qua allora guardiamo anche la world reputation più alta meglio è tipo questo mauro bollino a 25 anni quindi ci sta mauro bollino vediamolo un po' e più fantasia buona controllo palla buona e anche finalizzazione animale visioniamolo vediamo qualcos'altro vediamo Zanimacchia Alessio Curcio questo comincia ad essere alto però 30 vediamo Curcio Alessio eccolo qua questo bel giocatore regista avanzato rifinitore solo più o meno metà potrebbe essere interessante vediamo un po' finalizzazione 12 velocità va bene fantasia 7,9 no non mi piace troviamo qualcos'altro troviamo Gabriele Bove che a 22 anni può essere interessante anche per il futuro Gabriele Bove eccolo qua vediamo un po' fantasia 12 non è velocissimo la buona integrità fisica quindi non si fa tanto male tiri da lontano non male finalizzazione più o meno però è più un centrocampista centrale no direi di no cerchiamo qualcos'altro vediamo un po' perché poi tutto il gioco è quello eh ragazzi cioè parliamoci piano chiaro allora Leonardo Taurino vediamo un word reputation che questo è importante eh questo bollino non è male Nicola Izzillo vediamo Nicola Izzillo eccolo qua eh ma è un centrocampista lui qui può adattarsi no non va bene vediamo un po' Tommaso Fantacci l'avamo già visto? forse è questo è del Senegal Balde vediamo un po' come si chiama di nome lui eh Ibuarima scusate Ibuarima Balde eccolo qua è una punta lui però è una punta no non va bene eh qui la fase è lunga eh ragazzi questo Ciccarevich qua io l'avevo già avuto forse Ciccarevich eccolo qua però è più un attaccante esterno beh visioniamo ci manca la punta centrale allora noi qui abbiamo bisogno di un centro avanti ok allora punta centrale vediamo allora qui possiamo fare così guardate technical colpi di testa minimo 15 new benissimo eh abbassiamolo abbassiamolo a 13 ok chi c'è? vediamo un po' 97,118 Pietro Cianci vediamo sto Cianci Pietro Cianci 15 fulcro del gioco però è più questo visioniamolo ma preferisco un centro avanti Magrassi questo l'ho avuto da qualche parte colpi di testa colpi di testa accelerazione non granché ma ci può stare e 194 cm non è male questo possiamo visionarlo più che c'è benedetti benedetti vabbè ma questo questo patricio spada vediamo un po' eccolo qua 9,15 188 cm va bene visioniamolo ok bene ora ci mancano gli ultimi due difensori centrali quindi andiamo togliamo via il colpo di testa andiamo togliamo via la punta mettiamo il difensore centrale a questo punto devono avere dei buoni passaggi per esempio 12 di passaggio e 10 di tecnica ok ne abbiamo uno solo che è Riccardo Cappellini che io ce l'avevo con la Pistoiese che qua Cappellini spero che abbia solo no era solo uno Cappellini Riccardo Cappellini ex Pistoiese vedete può fare anche il centrocampista effettivamente proviamo a visionarlo perché è importante avere difensori che sappiano impostare dal basso importante perché tanti prendono calciano solo lungo a caso se invece impostano dal basso e anche qualora lanciassero lungo ma hanno una buona competenza dei passaggi e saranno chiaramente più precisi eh eh signori poche palle allora abbassiamo un pelo magari il passaggio e vedete che qualcuno viene fuori chi viene fuori viene fuori questo Lorenzo Polvani lo cerchiamo Lorenzo Polvani cosa ho scritto Polvani eccolo qua Lorenzo Polvani passaggi discreti buon difensore visioniamolo ok a questo punto poi prendiamolo ancora uno difensore perché non è mai abbastanza c'è questo Giulio Parodi eccolo qua Giulio Parodi giovane 22 anni mi sembra che potrebbe essere interessante visioniamo anche lui allora noi abbiamo adesso chiaramente bisognerebbe andare avanti e tutto magari poi faremo un altro video in cui però giusto per capire come si imposta una tattica ragazzi tattica il gioco premia di più le tattiche offensive poche balle è fatto così è strutturato così già provato riprovato fare tattiche troppo difensive magari è vero prendi pochi gol ma non ne fai e quindi non vale la pena le tattiche sono offensive è molto consigliato utilizzare sempre una punta e due esterni larghi quindi nella versione 4-3-3 o nella versione 4-2-3-1 che stiamo utilizzando adesso ok in alternativa la difesa 3-3-5-2 per esempio l'abbiamo visto nel primo video abbiamo visto che quelli bravi che ottengono una marea di punti o giocano con il 4-3-3 o con il 4-2-3-1 ma che comunque hanno sempre due esterni alti o in alternativa giocano con i tre difensori e i quinti cioè i due terzini che spingono molto ok in questo gioco soprattutto quest'anno si vince molto con gli esterni ok quindi 4-3-3 4-2-3-1 o 3-5-2 questi sono i consigliati poi magari c'è qualcuno riuscito a ottenere anche risultati giocando con il 4-4-2 a specchio però tant'è giocatori offensivi ragazzi devono essere bravi i giocatori offensivi devono essere bravi perché gli fanno fare la differenza anche se siete in una categoria che teoricamente in cui dovreste far fatica perché se segnate segnate ok e poi ragazzi le competenze non prendete un giocatore perché ha 4 stelle ma che non c'entra nulla con il ruolo che volete affidarvi e non fate l'errore di infilarcelo per forza perché voi che cosa fate ti dice va bene io mi faccio la tattica a seconda dei giocatori che ho sì però i giocatori che hai interpretano dei ruoli che all'interno di una tattica complessiva e globale non c'entrano nulla perché se tu giochi con un centrocapista che fa l'incontrista o hai 3 incontristi perché per caso hai preso 3 incontristi o 3 centrocapisti difensivi e quelli hai solo i più forti li fai giocare tutti e 3 capisci che la tattica non va bene perché non avrai magari nessun inserimento del centrocapista oppure avete che ne so due terzini destri fortissimi uno gli fai fare il terzino destro l'altro magari lo andate a fare il centrale di difesa sì però magari il centrale di difesa ti gioca al 30% delle sue capacità e non le vale la pena ok quindi cercate i giocatori al limite un pelo meno forte a livello di stelline rispetto a un altro ma che interpreti la perfezione quel ruolo lì questo è importantissimo ragazzi questo è veramente importantissimo perché altrimenti fate una tattica che poi non darà i frutti perché avrà degli interpreti che non riusciranno a recitare alla perfezione il ruolo che voi gli avete attribuito quindi se ascoltate se ascoltate me prima vi fate una tattica cercate anche di capire in buona sostanza chi avete in casa io ho avuto la fortuna di avere un alto a destra un alto a sinistra i due centrocampisti e i due esterni bassi li avevo già in casa non li ho dovuti acquistare ma avevo cinque posizioni libere e ho dovuto cercarle poi una volta che tu hai tra virgolette la formazione titolare vai a prenderti dei giocatori che possano esserti di aiuto in caso di infortuni e disqualifica magari un pelo meno bravi ma che interpretino anche loro bene il loro ruolo se non li trovate fra i free agent due o tre prestiti li potete fare perché magari non trovate quel giocatore in quel determinato ruolo specifico e allora potete ricorrere a due o tre prestiti ma non sombarcatevi di prestiti perché alla fine dell'anno quelli vi vanno via quest'anno ve l'ho detto nel primo video ve lo ripeto adesso non è più come gli scorsi anni che molti dei prestiti erano gratuiti ora tutti i prestiti magari vi concedono giocatori che negli anni scorsi non vi avrebbero dato quest'anno ve li danno ma vogliono soldi e i giocatori in prestito forti costano tantissimo quindi se non trovate posizioni con i free agent magari un paio di prestiti vanno bene ma cercate i giocatori free agent perché i giocatori free agent poi potrete rivenderli e recuperare parte della spesa ma soprattutto i giocatori free agent magari come avete visto io ho selezionato ho cercato i giocatori 25 26 28 perché sono nel pieno della loro forma invece i giocatori in prestito più delle volte sono ragazzi di 17-18 anni che potrebbero esprimere tantissimo ma che poi tante volte non esprimono nulla ok ragazzi io spero di esservi stati di aiuto poi vi farò vedere come è andato il gozzano con questa squadra con questa tattica se riusciremo a prendere dei giocatori vi farò vedere dove siamo arrivati perché poi magari la tattica io adesso l'ho buttata giù abbastanza veloce magari la tattica non era così performante ma era per farvi capire come vanno messi i giocatori e soprattutto come fa di interpretare il loro ruolo ok ragazzi io vi saluto vi do appuntamento al prossimo video fate i bravi e buona giornata ciao ciao